Stiamo entrando nella Grotta Azzurra! Cari amici del Cilento, oggi vi porto a fare un tour spettacolare! Volete vedere che tour? Guardate! Questo! Sono a Palinuro e oggi vi faccio vedere Capo Palinuro, Cossa degli Infreschi, Grotta Azzurra e tanto tanto altro! Andiamo! Ciao Alessandro! Ciao Aldo! Siamo pronti allora? Siamo pronti a fare questo giro a Capo Palinuro, sì! Che tour faremo? Allora, partiremo dalla spiaggetta del porto, dove ci troviamo adesso, facciamo tutto il promontorio fino all'arco naturale, iniziamo nella Grotta Azzurra, Cala Fetente, Baia del Buon Dormire, dove si può fare un bel bagno, Cala delle ossa e ritorniamo a venire! Quanto dura? Circa due ore! Benissimo, andiamo! Grazie! Ecco le imbarcazioni, questo è il porto, possiamo andare! Cioè, ormai si guida con i piedi! Aria del Cilento, guardate che spettacolo! Ciao! Ragazzi, guardate che spettacolo! Mamma mia, bellissimo! Bellissimo! Che meraviglia! Questa grotta! È impossibile, non si può accedere perché è molto bassa, però è bellissima, guardate! Eccola qua, guardate, bellissimo! Pensate che prima ci facevano i tour qui dentro, e come entravano? Questa è chiamata la finestra del Cilento, bellissima! Paradiso, le conosci bellissimo queste zone! Diciamo che io qua ci ho passato la vita, tutta la vita! Ci sei nato! Esattamente, sono nato qua! Qui proprio! Questo è lo scoglio del coniglio, sapete perché? Guardate! E boom! Guardate che spettacolo! Sembra proprio un coniglio! Questa è la baia del buon dormire! Si chiama così perché, secondo una leggenda, qui c'erano delle sirene che, cantando, facevano addormentare i pescatori! Eccola qui! Ora però ci facciamo il bagno! È ora di buttarsi! Uno, due, tre! Una sirena! Ho visto una sirena! Sirena, mi scusi! Mi ha dato un polpo! Se venite qui, il bagno è obbligatorio, ragazzi! È un paradiso, come la nostra guida! Capitano, diri là ancora, ce ne andiamo? Ancora! E adesso, signori e signore, direzione Grotta Azzurra! Stiamo entrando nella Grotta Azzurra! Bellissima! Guardate che è un po' molto bello! Bellissima! Ecco perché si chiama Grotta Azzurra! È tutto azzurro! Che meraviglia il Cilento, ma che meraviglia! Ciao Grotta Azzurra! Uscendo dalla bellissima Grotta Azzurra di Palinuro, vi saluto e vi dico di venire nel Cilento, perché il Cilento è uno spettacolo! E non lo dico io! Eccolo qui! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.